Riceve il voto favorevole della terza commissione consigliare permanente la delibera di giunta regionale che introduce una variante all'intervento di recupero del patrimonio edilizio del rione Sassi. Il provvedimento licenziato e approvato a maggioranza dei componenti presenti al momento del voto con l'astenzione dei consiglieri Navazio, IAL e Pagliuca PDL autorizza il comune di Matera a modificare l'intervento di recupero di immobili da destinare alla residenzialità nel cuore antico della città, passando così dai 73 alloggi programmati a 40. La variante al programma di recupero edilizio nei Sassi, patrimonio dell'UNESCO, si è resa necessaria a seguito della riduzione del 70% delle superfici utili destinabili ad abitazioni. Dopo il sì della commissione attività produttive e territorio ambiente, il provvedimento passa ora all'esame dell'aula per la definitiva approvazione.